Ragazzi oggi tireremo i rigori fortunati su mini football Innanzitutto 3 tiri per 2 euro Come minimo un bel mi piace dovete lasciarmelo ragazzi E se riuscirò a beccare il bersaglio dovrete iscrivervi, ok? Ok raga, primo tiro Ah niente Vai con il secondo tiro dobbiamo buttare sulla barriera Ah si mette male eh Ultimo tiro raga, ultimo tiro Forza della faccia Raga non ho beccato niente Vabbè se volete altri tiri fatemelo sapere qua sotto nei commentini E se i miei tiri hanno fatto pena me l'ho lasciato un mi piace comunque